Il mistero dell'Incarnazione che celebriamo con il Natale ci spiazza, ci coglie impreparati e smonta quell'immagine di Dio che ci siamo costruiti. Quando pensiamo a Dio infatti, spesso pensiamo a un Dio onnipotente, forte, che non ha certo bisogno del nostro aiuto. Il Vangelo di oggi invece ci dice esattamente il contrario, e cioè che Dio ha bisogno dell'aiuto di Giuseppe per mettere in salvo Gesù, portandolo in riparo in terra straniera. Che Dio è se sceglie la pericolosa strada della fuga del migrante. Pensiamo alle numerose famiglie che anche quest'anno, come da tempo oramai, fuggono da guerre, da povertà, cercando una vita migliore in una terra che non appartiene a loro e che spesso non li accoglie. La Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, non è da meno. Percorre le stesse strade. Ma come ci ricorda il nostro Papa Francesco, Dio è là dove l'uomo è in pericolo, là dove l'uomo soffre, là dove l'uomo scappa, dove l'uomo sperimenta il rifiuto e l'abbandono. Ma Dio è anche là dove l'uomo sogna, spera di tornare in patria, nella libertà, progetta e sceglie per la vita e la dignità sua e dei suoi familiari. Dio ha scelto, cioè di farsi uomo e non scappa da tutto ciò che noi proviamo dalle nostre stesse paure, dai nostri stessi desideri di felicità e dalle nostre stesse sofferenze. Il Vangelo di oggi sottolinea l'obbedienza quasi cieca di Giuseppe. Per ben tre volte, in poche righe, un angelo del Signore gli parla ed ogni volta Giuseppe seguirà l'avvertimento. Di che esempio migliore per la nostra vita abbiamo bisogno? Dio nasce nelle mangiatoie delle nostre case e ci chiede di prenderci cura di Lui e di seguirlo anche su strade che non conosciamo e che apparentemente ci portano lontano, ma con la certezza che non ci abbandona. Gesù, Giuseppe e Maria ritorneranno a Nazareth e nella quotidianità di un piccolo villaggio palestinese si costruisce quella che è la Santa Famiglia che oggi celebriamo. Anche a noi, carissimi, oggi viene chiesto più che mai di diventare santi nelle nostre piccole e umili famiglie. La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù e cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di quella manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo quasi senza accorgercene ad imitare. Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricorda cos'è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile. Nazareth ci faccia vedere come dolce e insostituibile l'educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale. Infine impariamo la lezione del lavoro. Festeggiare la Santa Famiglia oggi significa partire da quell'accoglienza di Maria ad una chiamata incomprensibile. In fondo oggi tutti i giovani si trovano in quella situazione. È come se davanti alla scelta del matrimonio e dell'impegno tutti si dicessero ma perché? Come faccio a farlo? Come faccio a scommettere sulla famiglia? Eppure tutti hanno un grande desiderio, un grande desiderio infinito di essere in un posto dove si appartiene, in un posto dentro cui le persone sono legate da un vincolo che è quello del dono reciproco, della solidarietà, del dare la vita per gli altri. Ecco, credo che nell'esperienza umana sapere da dove si viene è il potere essere in un posto che è casa propria sia decisivo. Quindi al di là dei cambiamenti culturali, degli attacchi degli ultimi decenni, la famiglia oggi rimane ancora un valore che ogni uomo e ogni donna oggi ancora desiderano. Ancora si dice spesso che la famiglia tradizionale sia in crisi, ma molto di questa crisi si può imputare anche alla mancata tutela sociale di questa istituzione. Questo è proprio un frutto degli ultimi decenni, di quella che in sociologia si definisce la postmodernità. Sta vivendo un paradigma individualista e anche Papa Francesco ci ricorda questa deriva di un narcisismo, di un uomo che pensa di poter bastare a se stesso. Invece la famiglia è proprio il luogo dell'altro, è proprio il luogo in cui io desidero stare con l'altro, voglio stare negli stessi spazi per tutta la vita. Ed è questa la grande domanda del non essere soli. Quello che risuonava nel linguaggio biblico non è bene che l'uomo sia solo. Ecco la famiglia è la risposta, il dono che Dio ci ha dato perché non siamo soli. A me parlare di famiglia tradizionale quasi disturba, nel senso che oggi la parola tradizionale è come se rimandasse a una cosa già passata, non più valida. Invece oggi la famiglia è l'esperienza più nuova che un giovane possa inventarsi. È proprio la scommessa della vita e moltissime storie di famiglie e di coppie che stanno insieme da 50-60 anni dicono che questa scommessa si può vincere. Dunque i diritti individuali e i diritti della famiglia, gli uni stanno scalzando gli altri e questo porta con sé anche delle conseguenze. L'individualismo è il vero nemico oggi della famiglia, cioè che le persone oggi pensino di bastare a se stesse come se il legame familiare fosse un nemico della propria libertà. Invece attraverso i legami tra le persone la famiglia restituisce senso all'esperienza della vita e restituisce solidarietà. Legami significativi è la prima risonanza, infatti le persone più in difficoltà sono quelle che non hanno legami familiari. Invece davanti a povertà, davanti a grandi shock, perdite di lavoro eccetera, se la famiglia tiene la persona e tenuta insieme. Quindi veramente la festa della Santa Famiglia è una grande occasione per ripensare alla famiglia e anche per rendersi conto che la famiglia è una grande risorsa di ogni società. È l'assenza di politiche per la famiglia, l'indifferenza dei pubblici poteri che spesso si nota di fronte alla famiglia è una grave colpa, una grave mancanza. Sostenere le famiglie significa investire sulla coesione, investire sulla solidarietà, tenere insieme il nostro paese. Buona domenica a tutti!